E regà quest'oggi siamo qua, su StumbleGuys, così, e non è un video su una nuova beta soprattutto È da un sacco di mesi che non entro sul vero StumbleGuys, infatti perché sono con la skin default? Ecco, innanzitutto voglio andare a vedere quante skin, vabbè tralasciando le mitiche, che in realtà di queste infatti non ne ho manco una Però le speciali le avevo mi pare tutte, se io vado a controllare adesso, so che ce ne sono tante nuove Perché ovviamente facendo i video sulle beta, però sono effettivamente tantissime, ma proprio tante tante tante, ok E forse non sono neanche tutte, può essere? Fatto so che oggi andremo a fare un bello opening, e anzi direi di iniziare subito, ci facciamo anche una partitozza Qua intanto, beh, il pass non mi interessa, io ho sia tante gemme che StumbleCoin, ruota al meglio del 2023 450 gemme per una, beh, effettivamente è pieno zeppo di speciali, bro Ma queste qua rare, comunque, vabbè, avranno sempre skin, penso, un po' vecchie, forse Per il resto, ah, questo qua è gratis che fa il boot, in realtà sì, non lo uso, però si riscatta sicuramente Senti, qua c'è un sacco di roba da scioppare, ma quanta roba c'è, ma che ho? A parte che tipo anche queste scatole io non le ho mai viste, posso anche prendere queste scatole? Provo a prendere tipo questa da 120, giusto per capire un attimo che contiene Ah, proprio così, che carino Ah, ci sono i frammenti, ok, sta roba l'avevo più o meno vista Quindi appunto appena abbiamo tutti i frammenti della skin in questione, la andiamo a sbloccare, d'accordo Vabbè, carina come cosa, dai, ci sta come progressione per sbloccare delle skin In fondo dovrebbero esserci tutte le varie ruote gratis, no? Infatti ce n'è solamente una Non c'era un altro tipo di ruota E poi, ovviamente, poi ricordo a voi il codice Luxor, che ce l'abbiamo su StumbleGuys, se volete supportarmi Ma prima di andare avanti con il video, volevo parlarvi di una cosa molto interessante Che potete fare su StumbleGuys tramite AppGallery Per chi non lo sapesse, AppGallery è lo store presente sui smartphone Huawei Store che può essere installato in realtà anche in tutti gli altri dispositivi Android Come vedete, andando dal loro sito, la procedura è molto semplice Ecco, se voi scaricherete StumbleGuys da questo store, di tanto in tanto ci sono delle promo molto interessanti In questo momento, per esempio, se voi shoppate 4,99€ su StumbleGuys, 4€ ve li danno loro Oppure ogni giorno, per degli acquisti da 3,99€ o superiori, avrete 1€ di sconto O 1,50€ se shopperete 7,99€ o più Oltre a questo, c'è anche un servizio chiamato Programma VIP Che anche qua, in base a quanto shopperete, vi verranno poi dati dei coupon di vario valore Quindi detto questo, vi lascio il link di AppGallery giù in descrizione Vi lascio anche il Discord di AppGallery Che sicuramente vi può essere utile per trovare altre promozioni del genere O in generale supporto di qualunque tipo Detto questo, andiamo avanti con il video Andiamo a fare sti giretti gratis Vediamo un po' che ci sta di interessante Io ero rimasto che avevano introdotto, a parte questa ruota, pure un'altra Dove davano solamente un giro lì, forse l'ho saltata o forse non ci sarà più Siamo qua anche per scoprirlo Fatto sta che nella prima 3 stumble coin, classico, qua che mi dai 5 gemme Dai, si sa, non si può chiedere troppo Ua, proprio 5 gemme, mi dà il sito, ho predictato tantissimo RXR indovino anche dopo mesi e mesi Comunque no, altre ruote non ne vedo E vabbè, a sto punto ragazzi, 45.000 gemme le abbiamo Quindi una botta da 10 qua, 4.500 gemme Possiamo anche buttarle Qua sono tutte skin nuove, per cui qualunque cosa ci esce va benissimo Beh, una banana marcia, versione tipo mago scuro ci può stare Questa qua è... ok, non ce l'avevo Queste dovrebbero essere tutte nuove Tra l'altro, la ruota è il meglio del 2023 Sta cosa era il meglio del 2023, perdonami In che senso, amico mio? Banana dor... Eh, no, questo è il doppione, zi Che scam Non buono, dai, darmi una speciale Eh, se mi dà un'altra Che gioco mi sei mettendo in giro Qua, 900 gemme, buttatevo per dei doppioni Dai, zi, non scherzia Eh, eh, beh, già questa, il Dark Farfast Penso che useremo questa Vediamo se ci dà qualcos'altro di meglio Ancora doppione, zi Questo mi sembra un grande scam però Tre doppioni così Cioè, gioco veramente... Eh, questa qua non ce l'ho, perfetto Ah, questa qua mi segue uscita nell'aggiornamento della mappa liena Che non ho neanche mai provato Ancora altro doppione Eh, questa cosa, non lo so Cioè, considerando il prezzo È un po' particolare, eh Mettiamola così Special fair ta 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 Peccato Anche se comunque, beh, ci può stare, dai Scheletrino innamorato Diamolo ok Io volevo vedere quanto... Niente, quei doppioni in teoria Dovrebbe avermi dato qualcosa, no? Un tempo urano gli stumble coins Non so se è ancora così Fatto sta che Oh skin sicuramente andiamo a farci una partita dopo Continuiamo a sbustare ovviamente Emote perché devo andarla a rimettere Ok direi che questo è il setup giusto E quindi andiamo negli eventi No beh andiamo a fare una partita normale dai Come i vecchi tempi Tra l'altro ecco non so se le mappe nuove ci sono qua Ma siamo qua a posto per scoprirlo Vediamo che succede Allora ragazzi vi raccomando un bel like per altri video di Istanbul Guys Iscrizione, campanellina, classico Ecco tipo questa è una mappa nuova Che mi sa che non ho neanche mai provato nelle beta Nelle beta anzi cos'è una beta che ho schippato tipo Qua dove che vado? Beh centrale palese Ok qua non era proprio questo il mio piano Ma per ora ci siamo Va bene lo stesso veloce Raxor bravissimo Qua direi che saltando in questo modo dovremmo cavarcela Vabbè questa qua praticamente è la mappa Come si chiama? Super slide Però fatta in una versione un po' più content Credo forse Beh sicuramente qua ci saranno anche dei trick Ma per ora non ci interessa Qua palese si può saltare dall'altra parte Si qualificano in 16 quindi abbiamo tutto il tempo Per far sì che noi riusciamo ad andare Dovrei essere tra i primi 16 sempre il sombra di dubbio Qua vado sopra Ok C'è la lava ci sta E dov'è il traguardo? Là in fondo Vabbè molto carina questa comunque Ci sta un botta Annaggia Ma do meno male Ok siamo arrivati Temple Ruin No aspetta non è neanche finita Va ancora avanti Però ma è tipo infinita allora Ma che è? E qua si va sopra D'accordo Quanto dura ancora? Io direi che Cosa sono secondo? Può essere? Primi 16 direi di sì È impossibile che non lo sia Forse Ah no sono primo addirittura adesso Wow Sono app che non conosco Eh vediamo se riusciamo a tornare già con una bella vittoria Non sarebbe per niente male come cosa Mappa veramente strabella ragazzi E abbiamo finito giusto? Sì Molto molto bella Nel mentre che qua stanno finendo Che hanno finito Ho preso un'altra tastiera Che questa qua fa un bel po' di casino Ne ho presa una che è tipo distrutta Però almeno per quello che dobbiamo fare qua Funziona bene E soprattutto non fa rumore Vabbè over e under Questa è una mappa che conosciamo molto molto bene E quindi intanto Vabbè Non ho capito perché non mi ha fatto il doppio salto Forse non ho premuto io la barra spaziatrice Ve l'ho detto che era rotta sta tastiera Quindi potrebbe anche essere lecita come cosa Per il resto Lo start non è assolutamente dei migliori Però tra i primi 8 Se andiamo avanti così Mi sembra più che fattibile Sì Siamo secondi A voglia Comunque non ho impostato le macro dell'emot Cioè perché io dovrei usare anche il mouse Per emotare ancora primo No zì No danneggia Vabbè non era la finale per fortuna Dai salta Rax Rocca ce la vuoi fare No zì ti prego Dai non me la merito No 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 Salto No giù a te Con calma Ricordiamoci che la calma è la virtù dei forti E in teoria ci siamo Beh qua stavo per scammare Allora Primissima finale dopo un sacco di mesi Se la vinciamo Non sarebbe male E siamo Uh beh 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 ma pettina questa che Insomma laser tracer Considerando anche che abbiamo tutte le varie emot Dovremmo comportarci bene no Quindi possiamo iniziare a emotare Potrebbe essere un'idea In realtà sì Unica cosa è che non avendo i tasti delle motte nel posto giusto Sono un po' in difficoltà Soprattutto col pugno Il calcio ok Ma non c'è nessuno con le motte in sta lobby Può essere Mi son beccato gente che non ha mai shoppato un pass Direi che dovremmo far sì che qualcuno qua ci scammi Il canguro ok è il primo Regà non si può perdere Se perdo palese Perché mi sclicco su un emot Palese Anche se attenzione perché qua inizia a essere un po' complicata la situa Due eliminati intanto molto bene Immagino che a breve arriveranno anche più eliminazioni Oddio No 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 Madonna santissima Meno male Cioè mi sono andato a infilare nell'unico punto dove veramente si rischiava assai Ok Qua forse potremmo fare così Ottimo Manca l'ultimo Però guarda Nel senso basterebbe un pugnettino Però ho tantissima paura di miscliccare e fare danni Quindi con calma Ok ce l'ho Bro Viacce Ok perfetto Non c'è stato bisogno Ragazzi prima partita dopo i secoli abbiamo vinto Beh 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 vi devo dire Non è male la questione Adesso continuiamo con lo spacchettamento Poi chiaramente ce ne facciamo un'altra Tanta roba Qua uso le molte differenze Ho fatto tutto bro Cosa che mi dai Quattro missioni Vabbè mi dà dei punti Che giustamente servono per sta skin Ma che è sto sbocco di skin Va bene Emote 2024 No ah questi qua sono i punticini che sono presenti adesso nello shop Giusto sì Posso farci qualcosa con 90 Direi di sì anche se Eh beh non potrò mai ottenere una skin Con solo un giro Direi che è abbastanza cara come cosa Però troviamo la bellezza Di 5 No se verrà Vabbè Beh non ne servono neanche così tanti alla fine Ci può stare Facciamo adesso Ruota Astro Capricorn No ma che è sto sbocco Non mi piace Ruota emote Che ci dà di interessante Beh oddio Anche questa Perché no Facciamoci una bella botta da 10 Vediamo un po' Da un'altra skin Ma a parte che qua ci sono anche skin vecchie Palese Tutti i doppioni saranno No qualcosa di nuovo In realtà ho visto Ecco tipo quella lì leggendaria Non è male Già qualcosa va bene Comunque chissà quante skin ci sono in totale Cioè nel senso Già prima che io mollassi stumble Ce n'erano un'infinità Adesso saranno una quantità industriale Letteralmente è impossibile averle tutte A meno che non sei un player che gioca da sempre Con continuità E magari c'è pure speso qualcosa Direi che questo è regolare Anzi è proprio l'obbligo Comunque due skin le abbiamo trovate E va bene Io però vorrei capire Se a sto giro mi dà la schermata dei doppioni Potevo magari vedere quanti stumble coin Avesse prima di iniziare a girare no Perché in teoria Sempre quelli dovrebbe darmi Un altro doppione Non so quanti giri mancano Ma direi molto pochi Dai un'altra skin Già come la vuoi dare Questa sicuramente Già ce l'ho Dai un'altra Dai ruota Lo so che andrà a finire Sulla mitica Sì ciao Sì vai il pinguino Ancora Ah no è finito Eh converti in 5 Immagino Ok non so quanti stumble coin ha avuto Ma d'accordo Andiamo a metterci questo qua Lo scheletrino rosa Che è devastante Quando il pass posso riscuotere Sta robetta Che assolutamente Prendiamo anche se Ah ma abbiamo avuto la skin proprio Grazie mille Così bellissimo Effettivamente eccola qua Ok non me l'aspettavo Se no sai cosa Ci facciamo qualcosa di un po' più complicato Andiamo a farci i ricordi del 2023 Vediamo che succede Se dovessimo vincere anche qua Non sarebbe male Però so che qua il livello dei play Era un po' più alto Anche perché Bot non dovrebbero essercene Non so nella partita di prima Però qua siamo sicuri almeno Ok iniziamo da questa mappa Questa l'ho provata nella beta Quindi so cosa devo fare Devo raccogliere il cannocchiale Dovrebbe esserci l'indicatore Infatti Però qua immagino Che gli oggetti Siano sempre nello stesso punto No quindi se uno Sa già dove sono Lo sa sempre Mi viene da pensare Intanto qua check sulle modi Ok adesso funziona tutto regolare Ma secondo me anche prima Prima penso che Abbia scammato io qualcosa Fatto sta che andiamo Dal primo bro qua Perfetto Prossimo oggetto Vabbè prima dobbiamo aspettare gli altri Mi sa Ormai dovrebbero Aver fatto tutti Manca soltanto l'ultimo Che in realtà Vabbè già 11 Eliminate su 16 Ok Ok sono vivo Qua con molta calma Sembra gestiscono i bordi Forse riesco a evitare le palle Vabbè il fungo Qua si prende Nel cielo Perfetto Andiamo dai nostri bro qua sotto Beh facilissimo C'è il senso Dov'è la difficoltà La domanda è adesso Sono qualificato O c'è altro Ma direi che lo scopriremo a breve Beccati sta banana Ok qualificato a posto Vabbè primo livello Molto easy Ma comunque queste ombre C'erano anche quando Giocavo ai tempi Chi lo sa Che mappa mi dai adesso Sembra qualcosa di nuovo No questa qua Che ecco Se ci becchiamo il pugno in faccia Potrebbe essere un po' Problematica come cosa Cerchiamo di non farci colpire E anzi Devo essere io Tipo qua lo zombie Annaggia Ma tipo di questa mappa Se non mi sbaglio Non c'è anche una variante Un po' più complicata Lo ricordo male io Scappa con rifugio Vi ascio Forse è meglio Emotare tipo lui Ottimo Buttate da sotto Non è riuscito a salvarsi Basta l'ultimo Posso resistere Sto chiedendo troppo A quanto pare no Ragazzi Nuovi in finale Che dire Non succede Ma se succede E sta finale La facciamo Su Ok Tipo questa variante Di space drop Ah questo qua è space coso Più Quello là Delle miele No come si chiama Ah con la gravità anche ridotta Giustamente Ok Non l'ho mai giocato a sto livello Primissima volta Però ci sta Mi piace Molto molto carino E qua è tosta vincere Andiamo su Anche se su Non è che ci sta Roba Però in realtà Sopra di me Non c'è Nel senso Sul mio stesso livello Non c'è nessuno Però adesso andiamo di qua E niente Già due eliminati Ma regà io Vado con Estremissima calma Tre eliminati Nel senso Quattro eliminati Posso realmente perdere Considerando La velocità con la quale Gli altri stanno morendo E soprattutto Non vedo nessuno Tu vorresti dire No 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 Però c'era uno dietro di me Hai capito Il furbacchione L'ho fatto cadere Un po' di sotto Qua non ci sono blocchi Però comunque Qua è pieno zeppo Di robetta Per cui per ora Problemi assolutamente Non ce ne sono Cerchiamo di non scammare E qua un attimo E se cadi Può finire anche tutto così Quindi facciamo di questo Sempre quattro eliminati Che non stanno più A scammare Bro A parte che poi sono Ah sono la due La madonna Tre in realtà Allora hanno perso Quattro subito E questi qua sono rimasti Stra alti E oh 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 Questo potrebbe essere pericoloso Faccio così Ritorniamo su Se è possibile Ok In realtà è possibile come Qua faccio di questo Non me la voglio rischiare Vado di qua Sì ma è tipo infinito Sto livello ragazzi Cinque eliminati Comunque ottimo Io ritorno un altro po' su Se rimaniamo in uno contro uno Ed eccolo là Lui è sotto Però io direi di andare Verso di lui Perché eventualmente Possiamo provare A emotarlo Però no Cioè in realtà Non ho tutto sto spazio Per fare questo tipo di plays Quindi niente Qua ce la giochiamo nel chill E il primo che scamma Scamma Per forza di cose A meno che non viene lui Incontro a me Ok Qua mi sa che sono andato In un brutto angolo Infatti No 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 Nonnoggio E niente Ho sbagliato qualcosa nel salto Ho sbagliato il timing Dai Sì Che sbocco Perdere così Vabbè niente Ci sta Va bene Perché che dire Ritorno su StumbleGuys Molto piacevole Devo dire Quindi un bel like Per altri video su Stumble Poi iscrizione Campanellina Già lo sapete Noi come sempre ci becchiamo Alla prossima Con un nuovo video Bellissima